Mariani Atletic, primo tempo parziale 3-0, forse è stato il primo tempo, la chiave della partita. La chiave sono stati i tre gol regalati, lavorosamente, quindi già una squadra ben organizzata, con ottimi giocatori, credo che la strada gliel'abbiamo spianata a noi. Il secondo tempo, con i cambi, abbiamo cercato di dire un po' la nostra, però purtroppo era assurdo, voglio dire, una partita che abbiamo giocato 90 minuti con due punte e un trequartista, credo che abbiamo fatto neanche un tiro in porta, quindi è proprio vero che nel calcio tante punte non vuol dire tante occasioni. È un peccato perché la serietà e l'impegno della mia squadra nelle settimane e in tutti questi anni non deve essere, voglio dire, un po' perso da prestazioni di questo genere che sinceramente non ci competono. Quindi complimenti alla Sestrese e noi vedremo di rifarci nelle partite che mancano con l'obiettivo sempre di arrivare nei primi quattro. Grazie.